eccomi 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 buona serata amici amiche rossoneri presto che tardi presto che tardi veloce veloce perché questo è il video breve del sabato sera come d'abitudine domani non ci vediamo noi ci vedremo lunedì sera vi auguro buon weekend a tutti amici e amiche rossoneri miei follower miei seguaci che spettacolo sono stanco morto io basta non ce la faccio più buona serata di questo sabato 2 luglio 2022 ore 18 e 36 buona domenica se mi vede di 3 luglio 2022 per cui ragazzi andate al mare insomma divertitevi state bene a casa con l'aria condizionata con ventilatore con quel cavolo che volete perché il nostro mina sarà uno spettacolo allora ragazzi vi faccio un aggiornamento molto breve delle notizie allora avete visto in copertina il magnate indiano e ziec e adesso arrivo subito gli argomenti però prima di tutto faccio un applauso a florenzi perché florenzi oggi praticamente è ufficiale è stato riscattato alla roma per due milioni di me per due milioni di euro più 500 mila euro di bonus al di sotto cioè la metà di quello che era il prezzo concordato con la roma di 5 milioni di euro uno spettacolo maldini come ha imparato da elliot questi di elliot li dovrai ringraziare per sempre e poi ragazzuoli belli mirante il nostro portiere mirante è stato rinnovato suo contratto fino al 30 giugno 2023 per 700 mila euro una roba del genere comunque ragazzi dovete anche mettere in conto che qualcosina a livello sia di forno di florenzi che di mirante ci costano perché non beneficiano del decreto crescita comunque un applauso a tutti e due sia florenzi che mirante meritate e adesso saltiamo agli argomenti la notizia la vetretta sicuramente di sera ma sul magnate indiano ve la dico per ultima prima vi dico di ziek ragazzi confermo che su ziek il milan è molto forte e la trattativa sta andando spedita io dico solo una cosa che non vi devo spiegare io a voi chi è ziek che è il ragazzo che ha fatto i miracoli nell'ajax che comunque nel cessi ha fatto vedere che classe di che classe è fatto ziek allora arriviamo su questo discorso uno dei suoi primi allenatori che contano di ziek è stato un certo marco van basten però vabbè avevano un po di dissidi perché ziek ha un bel caratterino var basten pure lui ma poi la sua carriera è andata sempre crescendo soprattutto all'ajax ma anche il cessi ha confermato chi è ziek io dico solo una cosa che se ziek arriva al milan abbiamo l'uomo degli assist perché questo ziek per gli assist nella fase di attacco è un mostro chiaro qual è il concetto ziek ha già accettato il milan questo ve lo confermo c'è da limare quello che è il discorso del prestito con il cessi perché non so se l'avete letto lo sapete il cessi vuole obbligare il milan per il prestito a un prestito diciamo un po neroso con un riscatto molto neroso vediamo ma secondo me ce la facciamo con ziek perché il cessi ha bisogno di sfoltire la rosa ragazzi per cui questo è quanto e adesso saltiamo comunque ragazzi ziek hanno spettacolo saltiamo al magnate indiano ma chi è sto magnate indiano ve la faccio in breve perché l'avete forse detto che insomma questo magnate indiano è il classico self made man cioè uno che si è fatto da solo è uno che è nato in india vissuto in india fino a certa età poi per i suoi studi nell'ingegneria elettronica si è sposato si è spostato negli stati uniti a fare l'm it chi fa l'm it è un mezzo mostro nel settore ingegneria elettronica e quando esci fuori dall'm it praticamente sono gli altri che ti vengono a chiamare per fatti lavorare il signorino questo signore del 1957 la faccio in breve ha fondato proprio perché è un safe made man ha fondato praticamente la sua azienda di software negli anni 80 primi anni 80 adesso è diventato un multi miliardario perché udite udite non è che questo magnate indiano che ha ottenuto il passaporto americano che si chiama vivek ranadive vivek ranadive mister vivek ranadivek è uno qualsiasi un miliardario qualsiasi no è uno pesante perché voleva comprarsi il cessi per 4 miliardi e mezzo di euro poi è arrivato quell'altro che se le porto via 5 miliardi e qualcosina in più offerto 500 milioni in più allora lui è un appassionato di sport ma lo sapete e anzi se non lo sapete ve lo dico io in india dopo il cricket è un altro sport che adesso non vi sto a spiegare praticamente il calcio è un altro sport nazional popolare lui conosce benissimo il milan suo figlio conosce benissimo il milan per cui sfumata la l'offerta praticamente per 4 miliardi e passa per comprare il cessi cosa è successo il signor jerry cardinale ha fatto una telefonata al signor a mister vivek ranadivek praticamente vivek ranadivek è entusiasta del progetto cardinale di redboard perché ripeto redboard è venuto per uno scopo principale costruire lo stadio e creare il milan come una media company per di far diventare pesante e prezioso il brand il simbolo milan e niente praticamente non è che cardinale come disse commisso giustamente ci mette lui soldi ve l'ho detto anch'io un casino di volte cardinale è colui che fa da tramite da ponte per chi vuole investire i soldi potenti voglio ricordare che tra i tanti c'è dentro anche nel milan james lebron e vi voglio dire anche che questo magnate indiano vivek ranadivek era dentro con una quota importante nei golden state warrior uno dice ma che cavolo sono i golden state war uno dei più potenti squadre del di basket americano nella nba e scusatemi se poco lui poi esce vende la sua quota e si compra sta squadra mezza fallita ai tempi ai tempi che è praticamente la il sacramento sono i sacramento kings che sono sempre nell'nba non hanno ancora ottenuto risultati sportivi cioè hanno ancora vinto l'nba però praticamente il mister vivek ranadivek comprò comprò il sacramento kings per 500 e passa milioni di dollari adesso vale più di 2 miliardi di dollari scusatemi se poco però quello che si viene a sapere oggi infatti ho fatto infatti ho fatto decantare la notizia è che sembra che sia che è in chiusura con gerry cardinale per entrare con la sua quota importante all'interno del milan ma soprattutto ma sapete perché per aumentare la potenza di fuoco cioè di acquisto non solo dei soldi da versare a elliot del famoso miliardo 200 milioni di euro patuiti entro la metà di settembre cioè inteso no scusate una tranche grossissima verrà pagata entro la metà di settembre quando c'è il closing la firma e a un'altra tranche verrà divisa praticamente in due pagamenti laterali ma come normale che sia come fanno tutti tutti per cui il mister magnate indiano vive carana di ve questo ci porterà soldoni pesanti anche per il calcio mercato avete capito zucchine belle anche per quale motivo tutta la storia che ho sempre detto dal primo luglio maldini firmerà sono meglio io del commercialista tutto il resto proprio per questo motivo maldini voleva sapere di che morte si moriva cioè quale sarebbe stato il futuro gerry cardinale ha detto fammi concludere con questo poi ti do una risposta a te tu maldini che vuoi con massara io voglio più poteri non voglio sempre chiedere a gazzieri se agli altri posso spendere questi soldi voi mi date un budget e li spendo come cacchio voglio io va bene allora guarda il signor magnate indiano questo qua viene al mia tu puoi spendere quel cacchio che vuoi siamo tutti felici contenti il nostro mila diventerà una potenza ma voi di che cavolo vi preoccupate bastate ad ascoltare i titoloni dei giornali guardate vi mordo la testa forza mina sempre comunque ovunque vi auguro un buon weekend ci vediamo lunedì sera è uno spettacolo ciao